Oggi la scuola comica di cucina vi preparerà un formaggio vegetale con farina di piselli, 70 grammi di latte, di soia, 125 grammi di yogurt di soia, 50 grammi di farina di piselli, una presa di sale, anche un'altra presa, un goccino d'olio, mettiamo cipolla essiccata ed aglio essiccato, un po' perché gli dà aroma e gli dà sapore. Allora chef, hai messo il pepe, le bacchie rosse? Non l'ho messa, mi sarebbe dimenticata. È fatto bene ricordarlo perché si mettono all'ultimo altrimenti si sgretola la maniera. Dai, questo è il primo di una lunga serie di formaggi. Sì, fiamo formaggi freschi e stagionati. Formaggio nel frigo. Et voilà, formaggio di farina di piselli.